Dobbiamo rischiare sulle potenzialità, è facile prendere il nome, giocare alla PlayStation. Noi è un esercizio che non possiamo permetterci. Il portiere l'abbiamo preso, i due marcatori non siamo stati all'altezza di prenderli. Non siamo stati all'altezza ancora di prenderli. Ma pensate che noi stiamo sotto l'ombrellone? Abbiamo preso un attaccante, sembra che abbiamo preso, come ho detto già un'altra volta, hanno scappato di casa, abbiamo preso un giocatore che viene da un campionato dove quella nazione sta in mondiali e l'Italia non sta. E già qui il partito dei disfattisti non vale. Ritorno indietro, quando prendevo Lucarelli, ma che questo come, hai due anni che non gioca, grosso, mangia le polpette, i pasticciotti. Poi dopo, due anni, fa 31 con, lo vendiamo per 18 miliardi. Conceva Antonio. Me ne dovete andare, è finito il mercato, me ne dovete andare a San Paolo per non sentire tutte queste critiche. Poi mi ha venduto Bocinovo. E mo', dopo 30 miliardi, 13 milioni e mezzo di euro, più Valdese, se presenta con Vucinici dello settore giovanile. Altri 20 milioni di euro. Altri 19 voli. Sono film, li ritornano. Altri 20 milioni di euro.